Riprenderanno la prossima settimana dopo la pausa estiva i lavori di realizzazione e completamento della pista ciclabile. Gli oltre 400 mila euro stanziati dalla regione per l'opera sono disponibili nelle casse del comune di Roseto che ha già dato il via all'ufficio tecnico di procedere con l'iter burocratico che consentirà alla ditta appaltatrice di riprendere in mano le operazioni che nella prima parte avevano interessato il tratto nord del lungomare rosetano. Stiamo predisponendo tutti gli atti per la ripresa dei lavori, adesso si procederà sprombattuto fino all'ultimazione dei lavori che dovrebbe avvenire prima dell'estate 2018, quindi adesso tempo permettendo. Inizieremo subito con il tratto sul Palazzo del Mare che gira attorno al Palazzo del Mare e contestualmente inizieremo anche all'interno della riserva da Colonia Spiaggia entrando mano a mano sul Roseto e poi continueremo con i tratti del lungomare nord e poi via via tutto il resto. Un'opera che consentirà la città di fare un salto in avanti per quanto riguarda l'offerta turistica in termini di servizi visto che manca ad oggi il collegamento tra la frazione di Colonia Spiaggia e il capoluogo. I lavori di completamento della pista ciclopedonale consentiranno di ultimare il corridoio adriatico nel tratto Terramano valorizzando oltretutto la riserva naturale del Borsacchio visto che il percorso si snoderà al suo interno. Sicuramente sì, adesso Roseto sarà collegata sia a Giulianova che a Scerne e a Pineto quindi un'opera importante che va a dare prosecuzione a quel corridoio verde da Abruzzo che parte a Martinsicuro e poi arriva fino a Vasto. A Colonia intanto la pista verrà realizzata sul lungomare passando dinanzi ai camping e agli stabilimenti balneari. Nel tratto antistante ai camping Nino e Stellamaris non sarà più possibile parcheggiare. La sosta sarà consentita solo in via degli Acquaviva, la strada che costeggia la ferrovia.